allora io saluto tutti probabilmente tutte quelle in collegamento avevamo forse sperato di non essere più in questo diciamo in questa situazione a distanza ma comunque invece ci siamo e quindi bisogna qualche modo adattarsi con la giornata di oggi con questa sessione comincia il quello che abbiamo chiamato il modulo introduttivo della formazione al self empowerment in carcere questo è un modulo che questo modulo gli altri due che costituiscono il modulo introduttivo sono aperti a tutti e poi spiego in qualche modo anche perché e naturalmente sono indispensabili per chi vorrà iscriversi per continuare il training il training che come sapete e avverrà in presenza il nel mese di settembre con oggi il inizia la possibilità di iscriversi al modulo di di training di in presenza di settembre come mai abbiamo scelto di fare questo modulo introduttivo in tre sessioni aperto a tutti diciamo così anche a chi poi non vorrà specificatamente continuare il percorso di training e lo abbiamo fatto perché ci sembrava importante comunicare quindi avere la possibilità di approfondire l'approccio che abbiamo scelto con questo progetto perché è il progetto appunto women on movement di partire dalla soggettività femminile e di valorizzare la soggettività femminile ci è sembrato che questo approccio sia importante sia importante come come dire molla diciamo di cambiamento del carcere e che quindi questo la discussione su questo sia importante al di là di quello che è poi lo specifico del progetto women on movement e cioè la formazione al di training per la conduzione dei laboratori di self empowerment in carcere finalizzata anche a attivare quanto più possibile questa esperienza che poi come voi sapete è l'esperienza che è stata fatta col precedente progetto da noi guidato women in transition esperienza dei laboratori di self empowerment in alcuni carceri carceri toscane che è abbondantemente direi documentata sia nel report conclusivo del progetto presente sul sito e poi anche nel nel libro la prigione delle donne quindi diciamo oggi con la prima sessione diciamo del modulo introduttivo siamo proprio alle fondamenta in qualche modo del lavoro è che come tale quindi ci sembrava importante approfondire se devo dire diciamo molto sinteticamente poi naturalmente siamo qui per approfondirlo che cosa intendiamo per approccio della differenza femminile è quello di cercare di mettere in luce il nostro non solamente i deficit diciamo della condizione femminile in carcere che pure esistono ma anche di individuare le risorse che le donne possono mettere in campo partendo dalla costatazione che spesso molto spesso troppo spesso queste risorse non sono sfruttate a pieno ma perché non sono viste non sono viste spesso e non sono considerate come tali quindi questo primo sessione è intitolata differenza femminile relazioni soggettività esperienze problematiche nel carcere di oggi ci è sembrato importante come dire avere uno spazio di visione molto largo direi e quindi di riflettere proprio a partire dalle esperienze fatte ecco diciamo si può scegliere due modalità in qualche modo di affrontare il problema di affrontare il problema è quello di riflettere a partire dalle esperienze fatte cercare che fosse il miglior modo per avviare questa riflessione non potrei dire altre cose naturalmente anche dalle ultime ricerche che abbiamo fatto su questo ma credo che sia bene partire dalle relazioni previste dalle vostre esperienze e su quelle vedere di stabilire fra di noi un dialogo a tutto campo quindi io inviterei ora a parlare e mi dispiace molto di non vederla fra noi Susanna Marietti che è la coordinatrice nazionale di Antigone e il tema che si è individuato è uno sguardo al carcere delle donne Re Bibbia e non solo quindi Susanna direi che potresti cominciare sì eccomi grazie per questo invito e veramente mi dispiace moltissimo di non poterci mettere la faccia ma purtroppo un problema di applicazione che non ha voluto funzionare in nessun modo vi invito a interrompermi in qualsiasi momento se avete richieste di approfondimento chiarimenti domande qualsiasi cosa mi farà sempre piacere e dunque sì grazie a me ha chiesto di partire diciamo da uno sguardo un po' introduttivo e generale sulla detenzione femminile in Italia per poi arrivare a una esperienza più piccola e concreta che è quella che negli ultimi anni Antigone ha fatto a Re Bibbia immagino che insomma tutti quanti sappiate a grandi linee cosa fa la nostra associazione però mi presento Antigone è un'associazione che esiste da 30 anni e che lavora nel campo della protezione della promozione dei diritti delle persone che hanno incrociato la giustizia penale molto lavoriamo con il carcere ma non solo anche in fase processuale e una diciamo dell'ora senza dilungarmi ma delle attività che più ci caratterizzano è quella di svolgere oramai da molti anni perché dal 1998 un sistematico e capillare monitoraggio delle condizioni di detenzione in Italia per diciamo verificare che rispondano alla normativa nazionale e agli standard internazionali circa 100 persone della nostra associazione sono autorizzate dal 98 non sempre le stesse 100 dal Ministero della Giustizia a visitare tutte le carceri italiane con la stessa prerogativa che la legge concede ai membri del Parlamento su questa base diciamo ci siamo formati la nostra conoscenza del sistema penitenziario in generale e anche di quel sotto insieme di sistema penitenziario che è il mondo della detenzione femminile decisamente un sotto insieme in carcere le donne sono poco più del 4% del totale delle persone detenute in questo momento sono 2200 e qualcosa e non è un dato ballerino diciamo sono decenni che più o meno le percentuali sono queste quindi non è un dato ballerino nel tempo e non è un dato ballerino nello spazio perché se andate a vedere gli altri paesi europei si discostano di poco da questi numeri, da queste percentuali la domanda ancora io credo senza risposta che sta a fondamento poi di tutte le nostre riflessioni la detenzione femminile è proprio quella di ma perché le donne delinquono? è una domanda che esce dal carcere si proietta fuori e si proietta al prima ma perché le donne delinquono così tanto meno degli uomini? io credo che ancora non ci siamo dati una risposta soddisfacente a questa domanda ci si è provato, è stato detto di tutto nell'ottocento è stato detto che siamo troppo stupide persino per fare il reato poi si sono date risposte un pochino più complesse e intelligenti di questa però io credo che ancora non abbiamo davvero capito quale sia il punto di fatto però in quello che è diciamo a valle ecco questa è la domanda che sta a monte ma a valle di questa riflessione c'è poi il carcere minimale per le donne che ha una serie di ricadute che tutte noi che abbiamo frequentato quel mondo conosciamo bene il fatto che le donne in carcere siano poche fa sì che il carcere sia uno strumento che viene modellato sugli uomini la detenzione è fondamentalmente declinata al maschile ci sono anche problemi diciamo banalmente concreti nel senso noi in carcere abbiamo poco meno di 200 carceri per adulti e 17 carceri minorili di queste quattro sono le carceri femminili per adulti e uno è il carcere femminile per minori parla ora del mondo degli adulti perché la giustizia minorile in Italia ha un circuito del tutto differente meno di un quarto delle donne detenute sono recluse in carceri interamente femminili la stragrande maggioranza più di tre quarti vivono nelle tante sezioni femminili che sono ospitate all'interno di carceri maschili c'è una ragionevolezza in questo perché un sacrosanto principio sancito dal nostro ordinamento penitenziario è quello della territorialità della pena per cui un detenuto oggi finalmente nel 2010 con l'ultima riforma dell'ordinamento dell'ottobre 2018 questo principio si è trasformato in un diritto ma anche prima c'era comunque era enunciato cioè oggi si dice che il detenuto ha diritto a vivere e si dice non più vicino al contesto familiare ma vicino al suo centro di riferimento sociale che ha una visione più ampia perché non è detto che io voglia per forza stare vicino a mio padre, a mio figlio, a mio marito ma posso avere un riferimento sociale forte in altre persone in un altro contesto allora affinché alle donne possa essere garantito vivere vicino al proprio centro di riferimento sociale è necessario moltiplicare le strutture di ospitalità delle donne detenute che non possono essere solo quattro tanto più in un paese come l'Italia geograficamente segnato da una lunga cioè stretta e lunga quindi si sono moltiplicate queste sezioni poi in realtà a un certo punto sono diminuite il numero, si sono accorpate poi hanno ricominciato un pochino a crescere e si va da esperienze numericamente rilevanti come può essere quella di Bollate dove troviamo un centinaio di donne detenute fino a esperienze invece molto piccole e residuali sezioni che ospitano due, tre donne anche per periodi medio-lunghi non è stanno di passaggio mentre stanno andando in un altro istituto e stanno là due giorni no, se monitorate il sito del Ministero della Giustizia vedete che mese dopo mese quelle due donne nel carcere di Paliano continuano ad esserci poi diventano tre poi tornano a essere due e magari per un paio d'anni c'è un nucleo di due che sta lì allora capite bene che se chiunque di voi fosse direttore di un carcere di 300 detenuti che si ritrova ad avere 298 detenuti uomini e due detenute donne quando dovrà scegliere dove andare ad indirizzare i propri sforzi di risorse economiche di risorse di personale ma anche di attenzione le canalizzerà verso la parte maschile dell'istituto e quindi queste donne si ritrovano spesso a vivere un periodo di detenzione del tutto privo di attività significative credo che questo che è da sempre uno dei problemi principali concreti che si trovano a vivere le donne detenute al punto che ancora nell'ultima riforma che ho appena citato dell'ottobre del 2018 dell'ordinamento penitenziario si è sentito il bisogno di scrivere nella legge che regola tutta la vita carceraria scrivere nero su bianco che le sezioni femminili ospitate in carceri maschili non devono contenere numeri troppo piccoli da non permettere l'organizzazione di significative attività trattamentali diciamo questa è una delle tre frasi diciamo che hanno riguardato le donne in questa riforma le altre due sono la previsione diciamo di quote rosa nelle varie commissioni di rappresentanza della mensa, della biblioteca e la terza è invece una molto generica esortazione a far sì che le donne abbiano accesso a formazione professionale così ma insomma molto poco stringente ecco queste sono le tre frasi con cui il legislatore cioè il legislatore in realtà il governo perché erano decreti attuativi di una legge delega parlamentare quindi si è sentito diciamo il legislatore delegato si è sentito di rispondere al legislatore delegante che tra i vari criteri di delega di riforma dell'ordinamento penitenziario chiedeva l'introduzione di norme specifiche a tutela dei diritti delle donne detenute questo è tra l'altro uno dei tre criteri di delega che Antigone in fase di emendamenti al Parlamento in fase emendativa di questa legge delega Antigone riuscì a far introdurre perché noi è da tanto tempo che ci rendiamo conto di come la legge penitenziaria che poi non sia in grado di tutelare veramente questa minoranza così come non è in grado e questo è un altro degli altri criteri di delega che Antigone fece introdurre di tutelare quell'altra minoranza ma molto meno minoranza di quella di questa che è costituita dagli stranieri in carcere che sono circa un terzo oggi della popolazione detenuta complessiva e anche per quello chiedevamo norme specifiche a tutela dei bisogni e dei diritti specifici di questo settore della popolazione detenuta ecco diciamo non c'è stato un grande intervento di presa in carico su questo allora faccio faccio un passo indietro nel tempo era il 2005 quando Antigone riuscì a far votare cioè presentò tramite una parlamentare di allora un ordine del giorno scrisse un ordine del giorno e chiese a questa parlamentare di presentarlo e la Camera dei Deputati votò a quel tempo c'era Ferdinando Casini che la presiedeva e lo raccontò in conferenza stampa votò un ordine del giorno che impegnava il governo a costituire all'interno del Dipartimento dell'Amministrazione Penidenziaria del Ministero della Giustizia una specifica unità amministrativa che si occupasse della detenzione femminile cosa che fu fatta in maniera però molto diciamo non forte come noi avremmo voluto priva di risorsi intanto priva di portafoglio poi incardinata sotto l'ufficio detenuti e trattamento degli uomini e non di pari dignità e poi con due persone di personale una Nanda Ruscioli credo che ce la ricordiamo in molti qui è venuta a mancare non molto tempo fa e l'altra era una funzionaria con i pochi strumenti diciamo a disposizione Nanda Ruscioli riuscì a scrivere un quello che insomma è l'unico regolamento interno per le carceri e sezioni femminili ma è a fare una ricognizione di tutte le sezioni femminili con specifici bisogni ma non molto più di questo ora poi questo ufficio andò a morire per quale motivo io credo molti di noi penso crediamo che sia importante avere una gestione specifica delle donne detenute diciamo per due motivi che sono intrecciati fra loro ma non perfettamente sovrapposti uno perché la detenzione femminile ha bisogno di una attenzione specifica perché essendo numeri così ridotti altrimenti ci si dimentica di lei banalmente l'altro motivo è che la detenzione femminile ha bisogno di una competenza specifica che non è la stessa cosa di un'attenzione ha bisogno di una competenza specifica perché la categoria delle donne detenute ha una propria specificità e bisogna saperla gestire ha una propria specificità sociale ma anche giuridica se noi andiamo a guardare alla composizione sociale delle donne detenute vediamo una situazione di marginalità ancora maggiore se è possibile rispetto a quella che riguarda la detenzione nel proprio complesso noi ovviamente sappiamo bene che c'è una grande selezione sociale all'interno al momento dell'ingresso in carcere ma questo vale ancora di più per le donne le donne che incrociamo in un carcere io ogni volta che entro in un carcere femminile la sensazione proprio fisica che provo è quella è lo stupore cioè è quello di dire ma veramente noi queste persone le temiamo in carcere cioè ma veramente non abbiamo trovato un altro strumento per gestire problematiche sociali che non avrebbero nulla che vedere con la risposta punitiva allora le donne in carcere provengono da una precedente condizione di esclusione di marginalità che va a a farsi più profonda e ad acuirsi con il periodo di detenzione creando un circolo che spesso va avanti parecchio tempo se guardiamo infatti alla composizione giuridica delle donne detenute vediamo che tendenzialmente c'è una caratterizzazione di pene tendenzialmente brevi tendenzialmente ripetute c'è un'alta un'alta recidiva proprio tipico di uno stile di vita da piccola criminalità di strada con essenzialmente furti reati legati alle tossicodipendenze e via dicendo allora dico ci vuole una competenza specifica per esempio per gestire una pena breve non è come gestire una pena lunga ci vogliono strumenti differenti e ci vuole una capacità differente faccio due esempi ovvi ma che ho sperimentato in prima persona il primo è quello delle attività interne in carcere mi sono sentita dire tantissime volte quando si trattava di donna in carcere vabbè è inutile pure che la manda a scuola perché tanto fra sei mesi esce oppure che le faccio fare qualsiasi altra attività che la persona voleva fare allora non può essere questa la risposta dell'istituzione usiamo la creatività inventiamoci qualcosa non ci credo che non si possa inventarsi un modulo breve o una presa in carico differente insomma l'altro esempio è quello che però è fondamentale queste donne c'è una percentuale altissima di donne che provengono da situazioni di abusi precedenti alla carcerazione e che tante volte si rendono conto di aver subito degli abusi al momento della detenzione perché non avevano incontrato mai prima qualcuno che gli aveva detto ma guarda che questo è un abuso questo non lo volevi e quindi parlano con lo psicologo del carcere e viene fuori una nuova consapevolezza della condizione che si sono lasciate a casa ok ecco questa nuova consapevolezza va a smuovere qualcosa dentro la donna questa questa presa in carico da parte del personale del carcere va a smuovere qualcosa e poi però non si arriva alla fine del percorso di questa presa in carico psicologica perché la donna dopo pochi mesi esce dal carcere e viene abbandonata a se stessa ed era meglio lasciarla in quell'equilibrio instabile in cui stava prima piuttosto che aver smosso qualcosa senza poi arrivare alla fine del percorso allora anche qua spesso poi la donna cade in depressione anche qua possibile che non abbiamo la competenza e l'attenzione il misto di competenze e di attenzione per inventarci un raccordo con il territorio con i servizi del territorio che possa continuare la presa in carico e via dicendo ecco la se andiamo a guardare la l'ultima modifica che c'è stata delle regole penitenziarie europee del Consiglio d'Europa che è del del 2020 la precedente stesura era del 2006 sono state cambiate poche frasi le regole penitenziarie europee sulle donne avevano avevano un articolo specifico ma insomma tendenzialmente con una visione molto medicalizzata anche già si parlava del parto e della presa in carico medica specifica per le donne che per carità sono cose fondamentali ma non esauriscono la vita di una donna la modifica è stata introdotta un'unica frasetta che però diciamo dice nulla perché è tutta da riempire di contenuti ma dice tanto e cioè dice tutte queste regole cioè tutto quello che è scritto in questo documento del Consiglio d'Europa deve essere applicato tutti i diritti qui sanciti deve essere applicato declinandolo al femminile quando si tratta di una donna andando a guardare i suoi bisogni e le sue esigenze specifiche ecco diciamo un po' questo è l'atteggiamento che l'istituzione dovrebbe avere per questo noi ora torneremo a richiedere la costituzione di un ufficio di questo tipo stiamo lavorando alla scrittura di un nuovo regolamento di esecuzione visto che è stato riformato l'ordinamento penitenziario il regolamento di esecuzione esiste dal 2000 è stato scritto nel 2000 con una grande lungimiranza ma insomma tante cose sono cambiate e la pandemia ce l'ha dimostrato durante la pandemia per la prima volta il carcere figuriamoci ci voleva una pandemia è uscito da quel quell'analfabetismo informatico per cui era una sorta di piccolo medioevo no quindi tante cose si possono fare e noi stiamo riscrivendo un regolamento sperando che lo si voglia adottare ecco in questo regolamento cercheremo di avere di dare il nostro contributo per un'attenzione per una competenza specifica ai bisogni delle donne due parole sull'esperienza di Rebibbi e poi mi fermo Antigone nel 2014 insieme ad un'altra organizzazione che si chiama Progetto Diritti e che è un'organizzazione di avvocati che lavora con le comunità immigrate ha dato vita con il sostegno dell'Università di Roma 3 a una polisportiva voi direte che c'entra Antigone con lo sport diciamo diciamo che uno delle delle nostre ricerche più che più ha accompagnato la nostra storia è quella della ricerca di linguaggi che siano capaci di far arrivare le tematiche penitenziarie che non sono tematiche facili che non vanno di moda che vanno sui giornali solamente quando c'è il caso eclatante eccetera linguaggi che permettano di fare arrivare le tematiche penitenziarie all'opinione pubblica non specialista quella più ampia possibile la trasmissione radiofonica che Antigone cura oramai da 11 stagioni settimana dopo settimana sul radio popolare si chiama Jailhouse Rock il rock della prigione ed è una trasmissione musicale ma attraverso la musica poi tentiamo di parlare dei problemi delle carceri attuali allora lo sport così come la musica è un linguaggio universale un linguaggio che arriva a tutti che supera le divisioni sociali che supera le generazioni generi eccetera e quindi abbiamo dato vita a questa polisportiva per costituire da un lato un laboratorio concreto di integrazione tra persone provenienti da percorsi penali persone in esecuzione penale abbiamo avuto detenuti che avevano il permesso del magistrato di uscire ad allenarsi con noi due volte a settimana e a giocare la partita in casa una settimana sì una no era troppo difficile avere il permesso per il campo fuori di casa quindi creare un laboratorio di integrazione di questo tipo tanti ragazzi migranti ma poi anche e soprattutto uno spazio simbolico per lanciare campagne abbiamo fatto per comunicare sull'importanza che il carcere si apra all'esterno a Redibbia femminile abbiamo una squadra di calcio a cinque che è stata forse l'esperienza più straordinaria di Atletico Diritti noi abbiamo una squadra di questa polisportiva abbiamo una squadra di calcio maschile una squadra di cricket una squadra di pallacanestro tra un po' avremo una squadra di ping pong e questa squadra di calcio a cinque che è l'unica che non è iscritta a una federazione le altre hanno tutte un ruolo o giocano in tornei ufficiali questa no perché il campo del campetto di calcio a cinque dell'istituto la FGC la federazione non lo considera norma e quindi è l'unica squadra che gioca un torneo non ufficiale del CSI ecco ma è stata l'esperienza più straordinaria perché ha mostrato a noi alle detenute e agli operatori del carcere cioè gli ha fatto aprire gli occhi su come su quanto poi la visione della donna detenuta è stereotipata cioè le attività in carcere si faceva non so solo tagli e cuscito perché poi la donna detenuta ancora più dell'uomo vive questa stigmatizzazione di non aver corrisposto non lo so al ruolo sociale che le veniva attribuito e in qualche modo allora ora che sei in carcere corrispondici e quindi è stata un'esperienza straordinaria con queste donne che ancora ci continuano a scriverci anche dopo essere uscite dicendoci è la cosa più bella che ho fatto nella vita cioè delle cose che a volte leggo queste lettere mi viene la pelle d'oca ma ovviamente non era la cosa più bella che hanno fatto nella vita stare su un cappetto da calcio a dare il calcio al pallone con noi ma prendere consapevolezza di poter avere un ruolo diverso e questo vale nella doppia direzione perché il fatto che ogni sabato entrassero squadre dall'esterno in carcere di ragazze giovani giovani calciatrici che del carcere non avevano mai saputo nulla per come tanti tanti di noi che passiamo vicino a quell'edificio così in città dice che cos'è un carcere però non ti poni mai il problema di cosa c'è dietro quel muro invece ecco quando quel muro si rende trasparente con qualsiasi strumento e si apre al controllo sociale si comincia a considerare quel pezzo di terreno come una parte della città e non come qualche che mi riguarda che riguarda tutti noi ecco allora veramente c'è una presa in carico diffusa del carcere ed è quella la tensione verso la quale sempre più dovremo andare io vi ringrazio per l'attenzione e se c'è qualsiasi domanda sono contenta di rispondere allora Susanna ti ringraziamo tantissimo voglio solo tra parentesi tutta la parte di riflessione sulle pene brevi trovata particolarmente stimolante però per il momento lascio da parte volevo solo fare due notazioni perché mi sembra che servono diciamo a dare un quadro generale una è il discorso sul carcere modellato sugli uomini e sulla come dire sulla scarsa consistenza della presenza femminile questo è un problema perché come dire a seconda un modo di vedere le donne come questione specifica e non invece come uno sguardo differente ora nella società è facile dire che per la verità siamo la maggioranza e non la minoranza nel carcere è un po' diverso quindi io penso che hai ragione cioè la prima cosa da fare sarebbe come dire un po' come maestrine ma insomma di rimarcare questa questione non è come dire non siamo non è una questione di una minoranza dentro il carcere anche se i numeri sono bassi non è una questione di trattarli come un problema specifico anche se il numero è basso il problema è che riuscire a ragionare su uno sguardo differente e su un'esperienza differente porta un arricchimento come dire di visuale di panorama che serve poi non solo per la detenzione femminile ma può servire anche per la detenzione maschile è quello appunto che Tamartice chiama il diciamo contro il carcere degli uomini per gli uomini contro il carcere delle donne per le donne quello che chiama lo stesso carcere degli uomini che degli uomini lo stesso carcere delle donne che per gli uomini cioè come dire uno sguardo che in qualche modo ti può dare di più e poi vediamo come declinare questa cosa la seconda questione carcere femminile carcere femminile e sezione femminile nelle carcere ora tu l'hai detto molto bene è legato anche al discorso c'è un suo senso alla territorialità della pena eccetera nel corso delle ricerche ma ho visto anche degli stati generali si è incontrato un altro punto delicato ed è il fatto che avere dei carceri in cui sono presenti sia gli uomini che nelle donne pone in una luce diversa anche la questione della sessualità e dell'affettività diciamo l'esempio forse più banale è quella dell'esperienza del panneggio nel carcere di Solleciano con tutti i limiti che può avere su questo è stato anche riflettuto però insomma dimostra che c'è una tensione come dire è un modo per rimarcare il fatto che ora come ora nel carcere la sessualità è negata e questa questione come dire è incredibilmente rimossa proprio rimossa cioè rimossa per esempio appunto questo l'abbiamo visto anche nell'ultima ricerca anche dal da chi si occupa del dallo staff dallo staff carcerario per esempio ecco adesso io lo dico un po' così perché naturalmente voglio andare avanti però insomma andrebbe rivisto cioè non è solamente una questione di territorialità della pena non è solo una questione di attività perché naturalmente mi sembrerebbe giusto che se ci siano delle attività e questo peraltro mi sembra che era stato detto anche agli stati generali nelle sezioni maschili siano aperte anche alle donne questo è proprio una sessione come dire un modo per ragionare sulla è un aspetto della segregazione sessuale dobbiamo un pochino approfondirlo in questo senso ecco scusatemi è stata troppo lunga dunque mi segnalano che c'è l'indirizzo diretto sul sito se riesco mi dicono di metterlo in chat se riesco poi lo metto che è società della ragione punto it progetti uomo aperte le iscrizioni lì sono già presenti i moduli per chi poi vuole iscriversi al training allora a questo punto do la parola a maria teresa minotto dell'associazione il granello di senefe che a partire diciamo dalla sua esperienza ci aiuta ad andare avanti in questo percorso va bene grazie 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 buon pomeriggio a tutti vabbè sinceramente sono grata per avermi dato questo spazio di libertà di intervento e quindi anche la possibilità di portare di raccontare un'esperienza che spero si possa inserire bene non solo in un ragionamento generale ma anche nelle riflessioni dell'agire di chi frequenta gli istituti di pena o comunque interessato alla questione della pena allora per cominciare appunto devo dire che la mia esperienza che data più o meno ormai più di vent'anni è un'esperienza che è fortemente ancorata in un'organizzazione di volontariato come diceva grazie a prima granello di senape che è lo spazio sostanzialmente contenitore nel quale si è sviluppata ed è cresciuta una scelta una scelta quindi di impegno all'interno di un gruppo di una piccola comunità che presuppone peraltro un confronto con altre e con altri sul senso e significato di quello che si fa e si progetta un lavoro che per non essere per non diventare inutile cerca di mantenere una buona attenzione alla verifica di quello che si fa al confronto su quello che si fa e la fatica anche di elaborare progetti come dire di senso per alimentare le riflessioni e la consapevolezza rispetto anche alla politica delle relazioni e delle pratiche che si agiscono all'interno e all'esterno degli istituti io sono di Venezia e ho frequentato sostanzialmente i due istituti che esistono a Venezia la casa di reclusione delle donne e il carcere il piccolo carcere e anzi il grande carcere maschile negli anni comunque ho guardato con sempre crescente curiosità e interesse al mondo della detenzione femminile ho cercato di nutrire questo mio desiderio anche attraverso letture di quella della bibliografia insomma sulla questione della detenzione femminile che esistono lo sanno bene grazie a Suslanna Ronconi perché sono stati anche nostri ospiti nel presentare alcune delle loro pubblicazioni e ho cercato di privilegiare appunto nel mio volontariato nel mio agire una dimensione dell'operare e del riflettere che cerca cercava e cerca di interrogare proprio a partire dall'approccio soggettivo cercando di dare attenzione e di dare voce lì dove questo è stato dove è stato possibile all'esperienza delle donne e allo sguardo delle donne anche appunto nei luoghi di reclusione ecco questo puntare sulla soggettività peraltro sta anche nella mia storia personale nella mia pratica politica anche diciamo al di fuori del carcere con il femminismo con la partecipazione ad associazioni appunto quale è stata l'associazione prezioso nel mio periodo di presidenza da consulta delle cittadine del comune di Venezia ancora oggi in un'organizzazione che si chiama Venezia Manifesta perché la dimensione soggettiva soprattutto nel contesto di cui oggi ci occupiamo permette di andare oltre quella semplificazione che noi ritroviamo nella maggior parte anche della letteratura carceraria e di cogliere io non sento più niente no neanche io neanche io se la demo si è scollegata per cui passiamo provate a passare oltre tentiamo di recuperarla che sape sta tentando di ricollegarsi no mi spiace andare appena iniziato quindi semplicemente per questo ecco la voce la voce no va beh qualcuno ha riattivato l'audio perché non so io non ho toccato nulla ma comunque non importa vabbè scusatemi purtroppo vabbè a volte succede con queste con questi collegamenti forse non con questi collegamenti vabbè allora stavo parlato della certificazione delle letture carcerarie ti ridò la parola sì appunto la ritorica appunto che parla appunto che parla appunto soprattutto della loro debolezza della loro fragilità e delle loro incapacità comunque a cambiare e a riflettere appunto su quello che stanno sul percorso che stanno facendo su quello che è accaduto prima rispetto agli uomini perché nel mio volontariato come vi dicevo ho seguito per molti anni alcuni progetti culturali soprattutto piccoli gruppi con i quali ho fatto orientamento al lavoro nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore che comunque vivono una dimensione di solitudine tra virgolette analoga a quella delle donne lo sguardo delle donne vede però e vive questo stato questo loro stato in maniera più nitida più consapevole anche perché io credo che la perdita del controllo sul proprio spazio sul proprio tempo sulle proprie relazioni che costituiscono e noi lo sappiamo bene la trama della quotidianità delle donne è sicuramente più faticoso rispetto rispetto agli uomini perché è nelle mani delle donne che è affidato comunque il governo del quotidiano per loro stesse per i figli per tutta la famiglia lo diceva benissimo prima Susanna Marietti le donne lo sappiamo sono la componente marginale di una popolazione penitenziaria prevalentemente maschile certo un'esigua minoranza rispetto al totale delle persone in carcere ciò nonostante io ho deciso di occuparmene appunto per un mio preciso interesse vorrei dire per una sorta di passione perché come vi dicevo da tempo sono impegnata nella politica delle donne e per la peculiarità di questa questione di fatto poco conosciuta poco studiata e per tutte le implicazioni e le riflessioni che la detenzione richiede a partire dalla differenza sessuale come dicevo ogni ragionamento sulla detenzione femminile non può credo non possa prescindere dal constatare innanzitutto che la storia della carcerazione delle donne non è mai stata ricostruita da nessuna storica da nessuna criminologa sociologa e neppure dal pensiero femminista ma senza adentrarci troppo insomma in questa in questa questione che forse in questo momento non vale la pena insomma soffermarci forse vale la pena invece riflettere su un'altra cosa forse vale la pena ricordare che in Italia nel corso degli anni che vanno dalla fine della seconda guerra mondiale più o meno agli anni 2000 le percentuali di donne detenute è rimasta anzi non solo gli anni 2000 siamo in 2020 più o meno in mutata al di sotto del 5% della totalità della popolazione detenuta mentre sappiamo che diversamente in un'altra istituzione totale qual è stata quella per esempio del manicomio almeno fino alla loro chiusura la percentuale di donne recluse è stata decisamente maggiore di quella maschile e questa è un'altra secondo me un'altra questione su cui varrebbe la pena fare delle riflessioni questa cosa come diceva Susanna prima io la riprendo ha determinato negli anni una sorta di emarginazione delle donne dal contesto detentivo citava lei appunto Nanda Roscioli e l'avrei citata anch'io appunto rispetto a questa a questa riflessione Nanda che dall'interno che tra l'altro era stata educatrice anche a Venezia partiva pronto la sua carriera partiva appunto dall'istituto della Giudecca e che ha lavorato credo parecchio sulla questione del femminile le donne sembrano rappresentare una sorta di non problema nella logica della complessa della complessa gestione di tutta la popolazione detenuta al punto che le loro problematiche sono avvertite sostanzialmente come residuali e ciò nonostante questa detenzione paradossalmente accentui la specificità di alcuni problemi basta pensare per esempio alla maggiore difficoltà nel gestire il distacco dai figli ai sensi di colpa che derivano da questo distacco che si traducono in una minore adattabilità alla reclusione in una maggiore tendenza alla depressione all'ansia a malattie di tipo antipsicosomatiche questa sofferenza che si aggiunge è intrinseca comunque e costitutiva dell'istituzione totale che il carcere rappresenta in sostanza è un aspetto del carcere che non si può eliminare a mio modo di vedere se non con l'abolizione del carcere stesso la condizione peraltro detentiva delle donne a causa del loro diverso ruolo sociale delle specificità psicofisiche a partire dalla differenza sessuale spesso accompagnata per quello che è la mia esperienza da forme di sofferenza in qualche modo complesse il distacco degli affetti il senso di colpa la sommatizzazione del disagio emotivo l'impossibilità di vivere pienamente la propria femminilità all'interno di un contesto creato secondo codici e modelli maschili possono però tuttavia determinare anche degli atteggiamenti positivi di resistenza alla spersonalizzazione per esempio la cura del proprio corpo degli oggetti personali del proprio spazio seppur limitato quasi che questo possa essere una sorta di modalità di riaffermare il proprio sé femminile questa questa questione della della possibilità quindi di cercare di governare della possibilità di governare il proprio tempo il proprio spazio le piccole scelte personali è spesso anche motivo di fruizione diciamo con con l'istituzione scegliere scegliere per quanto riguarda il femminile di venezia non si può dire scegliere cella perché lì non abbiamo celle lì abbiamo dei grandi stanzoni da otto e dieci letti ma comunque poter scegliere almeno quello stanzone piuttosto che un altro perché ci sono alcune persone piuttosto che altre oppure decidere di frequentare un corso di lavorare nell'orto nel laboratorio di cosmesi o nella lavanderia oppure addirittura poter uscire il giovedì perché è il giorno di mercato oppure tingersi capelli insomma tutte le cose hanno significato secondo me di esercitare una sorta di proprio governo quotidiano e quindi di superare per certi versi la deprivazione che le donne comunque nello stare nel carcere subiscono ecco quindi che allora l'arredamento la pulizia della cella o dire quella piccola parte della cella appunto che vi dicevo che viene occupata come tentativa appunto di ricostruire uno spazio che possa consentire anche il recupero di un proprio ruolo familiare quasi un proprio ruolo materno così come la possibilità di usare di adottare modalità di relazioni e di comunicazioni basate sulla manifestazione di affetto sul contatto fisico che divengono manifestazioni di un linguaggio emotivo non basato sulla contrapposizione dei ruoli nel caso ovviamente del rapporto con la polizia penitenziaria ma piuttosto sul tentativo di creare legami caratterizzati da complicità e da condivisione ecco io una riflessione che voglio portare è questa ho detto che la donna detenuta si trova a vivere in un contesto maschile in una istituzione fatta dagli uomini per gli uomini e questa peculiarità lo sappiamo bene si manifesta si esprime nella struttura nelle modalità di rapporto nei colori nelle regoli un ambiente maschile con caratteristiche relazionali anche maschili basati sul potere vi ho detto appunto che la che la donna per la donna la detenzione è carica di una sofferenza diversa da quella maschile una sofferenza legata esplicitamente all'essere donna e che si aggiunge poi a condizioni specifiche difficile da gestire come per esempio l'essere madre l'essere tossicodipendente prostituta eccetera eccetera e questo modo diverso di vivere la detenzione quella che gli operatori chiamano particolare insofferenza delle donne verso il carcere non è forse solo insofferenza ma piuttosto è proprio il sintomo di una difficoltà a rispettare regole non proprie regole di tipo maschile ecco ecco un tema al quale tengo e che vorrei portare sempre alla nostra riflessione in questo senso l'omosessualità di cui si parla di cui si parla ben poco ne è un buon esempio come risposta della donna al proprio bisogno primario quello di dare e di ricevere attenzione cure amore quello di essere desiderata di avere un accomplice o un punto di riferimento forte una forma quindi di adattamento al carcere tra virgolette al femminile i rapporti che le donne per esempio instaurano fra loro esprimono un modo diverso di reazionarsi l'una all'altra mentre i detenuti maschi tendono a essere generalmente uniti in grandi gruppi la maggior parte delle volte legati appunto dal paese di origine pur mantenendo tra l'altro in questi gruppi ognuno un forte individualismo le donne in carcere così come fuori non vanno tutte d'accordo tra di loro ma tendono a creare dei piccoli gruppi anche di due tre persone molto uniti e con legami molto forti e credo che si possa dire anche che i rapporti tra i detenuti e le agenti di polizia penitenziana sono diversi nel mondo femminile sono molto più spesso basate sul dialogo sulla confidenza e per finire questo ragionamento è altrettanto importante evidenziare che anche le donne che lavorano all'interno dei carceri femminili o delle sezioni femminili si trovano a vivere seppure ovviamente in maniera non costrittiva il peso dell'istituzione maschile le agenti donne si trovano a dover esercitare un ruolo pensato e messo in atto da uomini sono sottoposti continuamente al giudizio dei loro colleghi e sono costrette secondo me tra due modalità o da una parte adeguarsi al ruolo imposto assumendolo come proprio ed esercitandolo copiando o riproducendolo appunto modelli maschili con rischio peraltro di trasformarsi in caricature prive di identità propria e dall'altra poiché si trovano ad agire in una specificità totalmente femminile costrette invece ad utilizzare modalità di relazione e di rapporti tipicamente femminili e quindi non basati sulla contrapposizione ma sulla comunicazione e la mediazione queste sono un po' le cose che avevo pensato di dire ce ne sono tante altre tutta la questione del tempo ma magari su questo possiamo un attimo l'unica l'ultima cosa che volevo che volevo sottolineare è la questione del corpo invece cioè la questione del tempo e del corpo io credo che la questione del tempo e la reclusione del corpo siano per le donne un problema assolutamente centrale della detenzione la donna fuori vive il tempo sul proprio corpo con le mestruazioni con la maternità con l'invecchiamento con la menopausa un corpo invece che è in carcere tende almeno per quella che è la mia esperienza è un corpo che tende per esempio ad ammalarsi nonostante una certa sollecitudine da parte delle istituzioni nella cura un corpo che risente di tutte le difficoltà che il tempo della pena produce nel breve e nel lungo periodo un corpo costretto al silenzio all'immobilità ovviamente rispetto all'esterno e spesso alla solitudine ecco la negazione vabbè insomma non voglio non voglio ecco io per ora mi fermerei qua ecco poi se ci sono delle domande specifiche volentieri insomma sono qui e pronta a rispondere allora grazie Maria Teresa hai messo tantissimi temi tutti interessanti voglio solo fare due sottolineature se me le permettete scegliendo la ricchezza dei temi sul tappeto è verissimo che c'è diciamo questa sofferenza aggiuntiva delle donne che deriva dalla perdita di controllo sulla quotidianità perché la quotidianità è nelle mani delle donne però è anche vero che se diciamo chi governa il carcere riuscisse a vedere questo aspetto potrebbe anche trasformarsi in una risorsa questo credo che è importante anche del lavoro diciamo che noi abbiamo fatto in questi anni vedere che quello che è come dire un problema o comunque un elemento di sofferenza può diventare una risorsa lo è evidentemente per esempio la questione dei figli lì molte volte non abbiamo trovato la sofferenza per il distacco ovviamente la preoccupazione per non sapere bene chi la può sostituire in genere è sempre un'altra donna che può sostituirla nella gestione dei figli ma anche come dire un elemento su cui costruire cioè lavorare all'interno in vista dell'uscita in qualche modo ecco su questo quello che noi non abbiamo trovato ma insomma discutiamone è un'azione di sostegno diciamo a questo problematica femminile diciamo a questa sofferenza delle donne al contrario le donne avvertono un atteggiamento giudicante nei loro confronti per il fatto di avere commesso un reato e quindi come dire se lo sono voluto loro adesso lo dico in maniera così la seconda notazione che volevo fare rispetto a quello che tu dicevi diciamo storicamente le donne in carcere sono una minoranza però nel manicomio erano tante sì erano tante perché esattamente lì nel manicomio veniva fuori il problema per cui le donne erano rinchiuse semplicemente come dire in maniera più semplice forse però che non gli uomini perché c'era tutta una serie di comportamenti considerati devianti dalla norma sessuale molto stretta tanto è vero che io davvero ho detto un'altra volta ma lo ripeto perché mi colpì molto che quando nell'89 mi sembro nell'88 non mi ricordo ben visitai il manicomio di aggrigento che ancora esisteva colpiva in maniera incredibile la differenza fra i reparti maschili e i reparti femminili cioè i reparti maschili erano come dire composti da uomini fortemente sofferenti assolutamente incapaci di gestire i reparti la parte femminile era di persone di donne presenti a se stesse e che in qualche modo diciamo organizzavano la loro povera vita naturalmente all'interno del reparto se ne prendevano cura in qualche modo cioè era un problema non solo di come dire attitudine storica femminile che si vedeva ma probabilmente anche il fatto che come dire le patologie per cui erano state rinchiuse non erano patologie chiamiamole che non erano patologie insomma ricordiamo che fino anche questo credo è una cosa che mi ha molto colpito e che in genere sottolineo in molti paesi fino agli anni sessanta le donne che le cosiddette ragazze madri erano diciamo sotto l'osservazione del servizio psichiatrico erano sotto l'osservazione del servizio psichiatrico erano in carico del servizio psichiatrico non non è così lontano cioè adesso molte questioni molti atteggiamenti molti che si ritrovano oggi nel carcere hanno ancora ben presente questa questione dei ruoli sessuali cioè non secondo me non dobbiamo dimenticarceli insomma rischiamo di non di non capire come come dire certe questioni che fuori dal carcere le donne hanno affrontato in maniera diversa hanno superato eccetera dentro il carcere è come se ci fosse una bolla una bolla in qualche modo di di vecchi stereotipi di vecchie credenze che proprio perché il carcere è una bolla in qualche modo è separato diciamo dalla società lì può permanere bene allora giungiamo all'ultimo contributo che pensavamo di dare come relazioni per poi diciamo inizieremo a discutere tutte insieme e ce l'offre Giussi Furnari Giussi Furnari è una filosofa di Messina dell'università di Messina è anche una donna che ha avuto esperienza diretta in politica anche in come dire in ruoli di dirigenti in prima persona e che è appassionata di queste questioni quindi Giussi a te la parola grazie grazie Giussi un minuto e basta scusate se ti interrompo ma ricordo a tutti che per le domande le possono scrivere nel box nella chat c'è proprio la dicitura domande e che poi le leggeremo tutte ce ne sono già alcune alla fine dei vari interventi programmati grazie mi leggerai perché io non ho accesso alla chat non so come mai vabbè Giussi va bene grazie per la possibilità di intervenire in questi lavori che come sai sono per me sempre molto arricchenti ai quali i miei contributi veramente sono minimi anche se devo dire in qualche modo sento non mi senti anche se è in qualche modo appassionati perché diciamo sono delle tematiche che mi stanno molto al cuore grazie non mi sentire maria teresa mi sente quindi non è forse grazie non so sì forse è un problema di grazie allora credo di sì io andrei avanti sì bene volevo dire che quindi il mio approccio all'esperienza delle carcere e al contributo che ho dato come volontaria direi alla questione delle carcere delle carcere femminili è legata innanzitutto alla mia partecipazione al Soroptimisti Club che negli anni 2015 2018 e 2019 ho avuto come presidenza e in questi anni ho intrattenuto un rapporto di protocollo di intesa fatto con l'università di Messina dove insegnavo con la casa circondariale di Garzi e di Barcellona e con il Soroptimisti Club di cui ero presidente questi progetti avevano il fine di mettere in relazione le risorse dell'università di Messina psicologi pediatri non scusate pedagogisti non pediatri pedagogisti psicologi e studiosi di filosofia il club che contava su delle professionalità di rilievo e di esperienza e il carcere che aveva dato questa disponibilità perché ci potessimo incontrare e potessimo avanzare dei progetti i progetti che in quegli anni abbiamo proposto e di cui anche Grazia è stata nostra ospite venendo più volte a presentare il suo libro a incontrare le detenute delle carceri a presiedere ad alcune attività che il club aveva fatto sono stata occasione per me per dare delle risposte innanzitutto delle risposte a me stessa a delle domande che via via che mi ero come dire che mi ero sempre più appassionato alla sfera politica come intervento politico alla sfera sociale come conoscenza effettivamente sul campus dei dati soprattutto del mio territorio della mia realtà perché ovviamente qualcosa mi veniva dagli studi che avevo fatto qualcosa mi veniva dall'esperienza che erano state fatte altrove delle ricerche che avevano fatte altrove ma effettivamente mi nasceva la curiosità di capire intanto da vicino e direttamente alla realtà delle donne nelle carceri intanto che cos'era il mio territorio e che rapporto c'era fra certe condizioni certi risultati che sul piano anche teorico sul piano della conoscenza del problema femminile della questione di genere della condizione della donna veniva sperimentata da sociologi di alto livello e di altri territori per esempio un sociologo che particolarmente mi aveva interessato era Alain Touraine il francese che parlava della soggettività della donna come l'elemento scardinante di una nuova società e di un nuovo modo di vedere il rapporto sociale e il rapporto della politica mi sembrava che in quel momento che fra l'altro in quello stesso momento stavo facendo un'esperienza alla regione siciliana come assessore quindi mi interessava anche capire che cose effettivamente potevo fare in maniera più consapevole per il mio territorio mi sono adoperata per conoscerlo direttamente al di là dei resoconti che mi venivano dati e così abbiamo cominciato questa esperienza abbiamo fatto dei lavori abbiamo presentato dei progetti dei progetti che appunto l'università mi ha sostenuto in cui c'erano dei gruppi di donne nelle carceri in quel momento fino al numero di 15 persone abbiamo fatto una serie di incontri per poter avviare una serie di come dire di dialogo fra chi veniva da fuori e chi era dentro fra donne infatti uno dei primi incontri che abbiamo fatto era donne che si incontrano e che si parlano e che quindi mettere a confronto delle esperienze e al tempo stesso far emergere dalla loro esperienza partendo da sé il femminile e quel femminile che è sofferente che stava all'interno delle carceri mi ricordo che uno dei primi al quale poi anche grazie ha dato il suo contributo uno dei primi una della prima risposta informativa che è stata il 2015 era un incontro che poi si concludeva nella celebrazione della giornata della donna con una serie di letture che avevamo chiamato l'attellante delle parole calde e delle emozioni le parole che avevamo messo in discussione erano cura dono scambio libertà dare ricevere ricambiare tempo dell'anima e tempo del corpo sentieri di vita che si rincorrono nell'effettività rimpianti colpi e desideri e concludendo poi un incontro sull'essere donne e tutto questo veniva accompagnato da una serie di letture fra la cui c'era quella di un piccolo dizionario delle emozioni di Ivana Castoldi una lettura che ha avuto un grandissimo successo che devo dire la verità all'inizio avevo temuto nel proporla era la lettera al padre di Frank Kafka che mi sembrava una lettura piuttosto impegnativa ma che invece ebbe un grandissimo successo e che provocò una serie di come dire di un fiume di parole di discorsi di una ricchezza veramente umana e profonda pensate che molte di queste donne addirittura ce n'erano uno o due che non sapevano neanche leggere e scrivere e che tuttavia di fronte a questi testi sono venuti fuori con una ricchezza di considerazione e di di riflessioni che effettivamente erano sconvolgenti dunque questa esperienza ha dato poi dei risultati con una produzione che loro stesse hanno fatto alcune facendo delle poesie altre raccontando la loro storia alcune semplicemente facendo riferimento a dei testi di canzoni a dei testi a delle poesie e via dicendo ed è emersa tutta quanta la diciamo la complessità anche del loro del loro stare dentro e fuori al tempo stesso perché in realtà a me è sembrato che le donne non stessero mai veramente là dentro ma che sostanzialmente erano tutte completamente proiettate sul fuori o sull'altrove che era il fuori dei figli il fuori degli affetti che non avevano vicini il fuori dei mariti che magari si trovavano in altre carceri del fuori appunto come si diceva poco fa a chi erano stati affidati i loro ragazzi a chi erano stati affidati i loro figli e diciamo che anche il loro la loro come dire la visione del loro essere state fuori dell'avere in qualche modo l'essere in qualche modo in corse in un reato e quindi in una pena molto spesso era un frutto di un aver partecipato in maniera accuditiva e per cura agli interessi della famiglia agli interessi alla protezione del figlio alla protezione dell'attività del marito e via dicendo quindi in realtà un femminile che pur avendo consapevolezza di sé questo sé era di totale abnegazione molto spesso e di totale proiezione verso un ruolo che avrebbero voluto più presto riprendere per poter in qualche modo salvare da un possibile tradiamento i loro figli stessi devo dire ecco una cosa devo dire in particolare l'esperienza che ho fatto soprattutto in questo primo periodo è stato delle detenute di alta sicurezza perché in quel momento a Messina la sezione femminile era rifacimento e quindi le detenute di reati minori non erano ospitate in quelle carcere ma lì c'erano soltanto le detenute di alta sicurezza quindi il rapporto che abbiamo potuto intrattenere è stato con questo gruppo ed è stato un rapporto con un gruppo di donne che dal punto di vista potremmo dire della personalità dell'intelligenza della consapevolezza di sé era molto forte era molto come dire molto ben strutturata ma al tempo stesso era strutturata in qualche modo su un femminile che si riconosceva in un ruolo ben preciso del suo essere donna del suo essere donna in una società e in un gruppo familiare in cui c'era con cui c'era una totale sorta di come dire di identificazione devo dire anche un'altra cosa che successivamente negli anni nel 2016 nel 2017 invece questa esperienza è stata fatta con gruppi di detenute che erano dentro per reati minore e devo dire che l'esperienza è stata di tutt'altra natura nel senso che queste giovane intanto erano molto più variegate anche il gruppo era molto più disorganico e meno in qualche modo potremmo dire fra virgolette meno gerarchizzato mentre il gruppo delle donne di alta sicurezza in qualche modo aveva un ordine al suo interno e riconosceva una sorta di gerarchia all'interno delle donne stesse per cui c'erano quelle che contavano di più e quelle che contavano di meno e fra di loro avevano un rapporto di amicizia ma anche di sudditanza l'una verso l'altra il gruppo invece delle detenute di diciamo di reati minori che c'erano delle immigrate delle donne che stavano lì per 3-4 metri cioè era molto più vario e provenivano da diverse provenienze era molto più scordinato fra di loro c'era molto meno interesse alla conoscenza del sé e il lavoro che si riusciva a fare era molto più difficile perché molto spesso non c'era partecipazione tuttavia anche lì abbiamo potuto notare che anche se pochi quei pochi elementi alla fine sono come dire sono risultate interessate alla consapevolezza di sé e a ripensare ecco a differenza del gruppo di alta sicurezza il gruppo di minor sicurezza diciamo il gruppo delle detenute delle detenute di minore di minore colpa di minore pena erano mentre le prime non erano tanto interessate a un ripensamento del sé in quanto donne quindi non si rimettevano in discussione non rivedevano non rivedevano in qualche modo non mettevano assolutamente in discussione il loro essere donne così come l'ambiente familiare le aveva costruite così come l'ambiente sociale nel quale erano state le aveva costruite il gruppo delle detenute invece che erano più giovane e anche diciamo e dentro per reati di minor peso erano più disponibili a rimettere in gioco se stesse e a fare un percorso di riappropriazione o di appropriazione del sé e nell'uno come nell'altro caso il percorso che è stato fatto è stato quello di scrittura autobiografica di lettura di testi che spesso abbiamo scelto insieme che spesso io portavo proponevo e aspettavo che loro mi accogliessero o me li rimettessero in discussione finché uno dei miei collaboratori un giovane studente di filosofia che veniva che aveva fatto esperienza presso di volontariato altrove e che mi accompagnava in queste qualche volta in queste sedute e propose anche il video di canzoni di testi di canzone alle quali loro potevano contribuire con la loro conoscenza e anche questo ha avuto un certo buon successo l'esperienza è proseguita in questo in questo senso ma è andata avanti anche con pièce di teatro e con altre forme che in qualche modo anche se non direttamente ma indirettamente spingevano le detenute a come dire rappresentare se stesse attraverso diverse forme e attraverso diversi linguaggi che cosa ne ha tratto perché credo che questa esperienza al di là di quello che forse è stato poco che io ho potuto dare loro e forse la cosa più bella che ho potuto dare loro era il fatto che mi attendevano con grande ansia ogni volta che io dovevo andare era come se fosse la festa del villaggio il sabato del villaggio cioè da una settimana all'altra aspettavano e i giorni precedenti chiedevano quando veniva quel giorno perché per loro era un momento di confronto con l'esterno di non sentirsi giudicate perché ecco il fatto che io ero lì e non ho mai chiesto nulla del loro passato nulla della loro parlavano liberamente di ciò che volevano non ho mai voluto sapere neanche dalla direzione di che tipo di reati queste persone erano perché non sono voluta entrare neanche con un minimo di pregiudizio nei confronti di nessuno è stato dopo che ho saputo la storia di ognuno ma le prime volte sono voluta andare proprio per conoscerla nella maniera in cui mi si presentavano in quel momento nella maniera più diretta ecco questo probabilmente è stata la cosa devo dire più bella che cioè il sapere che attendevano e che da quell'incontro avevano tratto un certamente non voglio dire un miglioramento di sé ma certamente nuova consapevolezza della loro possibilità di essere soggetti e qui ritorno a Turenne che cosa significa essere soggetto significa avere un'identità da mostrare all'esterno da gestire nel pubblico da come dire da una soggettività nel senso una soggettività sociale un un poter non creare quella frattura fra il il mio il mio essere di fronte a me e il mio essere di fronte al mondo ma il mio potermi rappresentare in maniera libera e in maniera propositiva e in maniera come agente politico nella società nella quale dovrò tornare e qui molto spesso abbiamo discusso del concetto di diritto e di dovere devo dire la verità che ho avvolto trovato ho trovato all'inizio quando parlavo di diritto ho trovato grande rabbia perché il diritto veniva confuso con l'ingiustizia che loro avevano subito nell'essere state messe in carcere per cui la non accettazione della ovviamente della della detenzione la non accettazione della legge come il luogo o come qualche cosa che si era infratta qualche cosa a cui si si doveva rispondere che si era infratta e il come dire la nozione che per chiedere dei diritti bisogna anche riconoscere la validità del diritto molto spesso tutto questo veniva confuso era molto spesso come dire però anche qui a poco a poco loro stesse attraverso il loro percorso e il loro loro discorso si sono chiarite e hanno chiarito che cosa è il diritto e come il diritto può anche perché molto spesso il diritto veniva da loro subito come come a volte appare come come dire come la punizione per i più deboli come come dire il potere dei più forti e quindi anche queste sono state tematiche che alle quali non si sono sottratte e che a cui invece hanno dato un contributo di interpretazione che secondo me hanno è servito a loro ma è servito anche a me come è servito anche chiarire i rapporti delle detenute nei confronti delle loro consorelle diciamo e del personale carcerario perché molto spesso un punto di grande come dire di grande attrito era fra il il loro estere anche spesso corpo di detenute quindi non la detenuta ma corpo di detenute e le custodi le agenti di tuno che spesso si per loro erano soltanto delle detenute a cui bisognava imporre del erano delle colpevole e quasi in ogni azione ricordavano la colpa di queste donne e dico ancora un'ultima cosa che cosa mi ha insegnato ancora di più queste esperienze perché ho voluto ho voluto continuare a farla come vi dicevo anche negli anni a venire perché ho avuto l'impressione cosa che ha detto poco fa grazia che mi ha proprio mi ha impressionnato nel senso detto guarda l'ha detto così bene ed è proprio quello che voglio dire io cioè il fatto che quando entri nelle carceri è la situazione fra virgolette sociale quindi come se tu lo considerassi un mondo a sé la questione ti pare di essere entrata nel medioevo non che nella nostra società spesso il rapporto alla questione femminile non ha ancora qualcosa di medievale ci diremmo delle come dire delle cose non vere se noi non dicessimo che ancora per certi aspetti e soprattutto in certi momenti nella nostra società emerge un come dire uno stereotipo della donna che è uno stereotipo medievale che è uno stereotipo sessista che è uno stereotipo di cultura patriarcale quindi non è che nella nostra società la cultura patriarcale o il diritto inteso come il diritto patriarcale abbia mollato o abbia in qualche modo non lascia ancora la sua impronta fortemente molto spesso anzi direi spessissimo si chiede ancora alla donna di entrare in questo ordine patriarcale di mettere al servizio se non direttamente se non in maniera chiara in maniera probabilmente molto spesso in maniera un po' ambigua e allervata di mettere al servizio del sistema patriarcale le sue risorse culturali perché oggi la donna ha risorse culturali risorse come dire risorse energie energie nuove aperture competenze che direi spesso gli uomini non hanno e io sono a volte preoccupata perché ho l'impressione che tutto questo grandissimo patrimonio che la donna faticosamente ha elaborato a sue spese con grandi sacrifici e grandi lotte con se stessa e con l'immagine che costantemente viene rigettata sulla donna stessa venga assorbito dal patriarcato per poter sopravvivere sotto nuova forma ma per poter sopravvivere quindi molto spesso quando dice mettiamo le donne le quote di potere mettiamo le donne ma per che cosa per rafforzare il sistema patriarcale o per portare qualche cosa di nuovo per cui in effetti voglio dire la questione femminile so che anche nella nostra società che nel nostro mondo è ancora in totale divenire ci sono ancora tantissime battaglie da fare ma soprattutto secondo me c'è da riprendere un punto per tenere insieme il frazionamento a cui lo stesso pensiero femminile sta andando incontro che rischia di indebolire tutta la questione femminile in sé c'è il rischio di come dire di congelare il complesso orizzonte della questione femminile con una lettura femminista di congelarla in una in un aspetto particolare di questa questione facendo per esempio della cultura di genere il grande la grande questione dove tutte le quelle altre questioni in qualche modo spariscono e allora mi è servito il carcere per capire anche per vedere anche in quel dentro in quell'orizzonte in quella realtà sociale perché anche una realtà sociale le carceri perché ci dà uno spaccato che probabilmente nell'esterno della vita quotidiana dimentichiamo e non vediamo probabilmente lì posto in come dire in prima rappresentato sul palcoscenico e visto nella sua crudezza nella sua pienezza probabilmente è anche un monito per le donne che stanno all'esterno e che comunque della questione femminile non possono dimenticare anzi devono partire dalla situazione dove il femminile è ancora debole dove il femminile non è emancipato dove il femminile è abusato perché quanto abuso c'è che lo diceva qualcuno e adesso non ricordo qui ma quanto abuso pregresso c'è nelle donne prima di entrare nelle carceri poi probabilmente nella situazione delle carceri aumenta perché appunto come si è detto le carceri sono ancora riconoscate dal maschile e ignorano la differenza del femminile ma già da prima tutto quel femminile che sta dentro è un femminile abusato ma che tuttavia è parte centrale della nostra società io per esempio in questo momento sto avviando un progetto qui nei vari quartieri perché voglio capire le donne dei miei quartieri in che condizioni vivono oggi che cos'è la questione femminile per loro perché probabilmente ci sono certo il tetto di cristallo lo stiamo rompendo ma abbiamo dimenticato che forse per la maggior parte per la maggioranza delle donne a certi livelli la questione femminile è ancora a livello degli anni diciamo rientra ancora negli stereotipi del patriarcato è ancora schiava di questa condizione e in certi territori tutto questo è molto forte fino a quando non faremo anche un'operazione di come dire di coscienza del sé del femminile a partire da quelle fra virgolette zone che ancora costituiscono difficoltà rappresentano la difficoltà del femminile forse non riusciremo né a cambiare le carceri né a cambiare all'esterno per cui ritengo importantissimo questo confronto questo dialogo fra l'interno e l'esterno perché l'interno ha da dirci molto della questione femminile e l'esterno di una certa concebolezza ha da dire molto a quella realtà ma tutto questo deve diventare secondo me una questione sociale una questione culturale una questione fra virgolette politica che non è l'ingresso non è le pare opportunità delle quote femminile che certamente sono un contributo ma possono essere anche una trappola se noi non teniamo conto che il nostro lavoro deve essere un lavoro di emersione del femminile nel senso del vino in fuori della differenza e del rispetto della differenza in tutte le sue declinazioni a partire dall'emarginazione che sono le carceri che sono i nostri quartieri che sono certe zone del nostro paese che sono le donne diciamo extracomunitari e via dicendo ecco questo è il grazie che io devo dire a questa mia esperienza delle carcere la ragione per cui il mio discorso vuole andare al di là della questione carcere stessa perché ritengo che è una delle cose che deve rientrare e ringrazio anche Grazia perché mi ha effettivamente con i suoi lavori con la sua presenza con i suoi stimoli con il lavoro che è veramente fate è un pensiero femminile femminista che dà molto a questo aspetto come possiamo dire emarginato che sono appunto le carceri e laddove la differenza stenta ancora più che altrove a farsi rispettare vi ringrazio grazie Giuse molto solamente di corsa due o tre notazioni quando sento appunto la retorica più recente sia nei partiti che a livello del governo sulle pari opportunità eccetera io lo vivo come un paternalismo insopportabile cioè proprio senza stare a rifletterci solamente così naturalmente poi c'è diciamo il problema del che tu riponevi diciamo del rapporto fra il mondo del carcere e fuori che va approfondito ecco la seconda osservazione molto semplice che volevo fare la tua esperienza è comunque l'esperienza di un lavoro impegnativo impegnativo perché le letture sono impegnative e il fatto che abbiano avuto così tanto successo la dice lunga sugli stereotipi che ancora ci sono perché quando a me è capitato anzi è capitato di queste ricerche naturalmente entravo nelle carceri parlavo con il direttore parlavo con gli educatori in primo luogo poi successivamente anche con gli agenti però diciamo il primo discorso che veniva fatto è dalla maggioranza è beh insomma le donne non si interessano a niente cioè questo discorso che le donne sono offissive che non si interessano che sono non lo dicevano esplicitamente ma insomma che sono ignoranti e così via a me l'hanno fatto diciamo esplicitamente e implicitamente e questo viene fuori come uno stereotipo l'ultima cosa io credo che più che appunto il discorso che pure è stato ben approfondito perché diciamo le donne delinquono meno degli uomini e quali tipi di reato fanno e in rapporto poi in quale rapporto con gli uomini che peraltro è in qualche modo è diciamo nella letteratura americana è stato anche affrontato e sviscerato sarebbe interessante approfondire come le donne si percepiscono come autrici di reato e come si percepiscono in rapporto alla percezione sociale o quella che loro sentono essere la percezione sociale di loro stesse come autrici di reato e questo è secondo me molto importante perché in alcune soprattutto in alcuni nodi quale quello appunto della maternità del della paura appunto di di essere sconfessate come madri ma proprio anche di di essere messe ai margini proprio dai servizi sociali e così via gioca molto anche questa questione cioè in parte lo dico in maniera anche qui semplice scusatemi forse troppo affrettata in parte c'è una reazione molto viva cioè di rifiuto no di questo giudizio in parte proprio questa reazione diciamo molto viva cela però un come dire una zona di in cui subiscono in qualche modo anche questo giudizio quindi fra come dire il rifiuto e il subire c'è secondo me uno spazio molto per lavorare bene io prima me l'ho detto che c'erano domande io adesso ho accesso alla chat le domande perlomeno mie sono vuote la mia chat è vuota io direi che se qualcuno vuole dire qualcosa può iscriversi alla chat oppure in questo momento non c'è nessuno può anche prendere la parola cioè normalmente diciamo la cosa più semplice è iscriversi alla chat perlomeno in modo che io possa darla non c'è nessuno no non c'è nessuno scattato attualmente il gasparrone terena io queste domande non le ho viste non ce l'ho allora credo che ci sia una domanda a Susanna Marietti che riguarda lo sport se ci sono altri sport che potrebbero interessare alle donne le donne carcerate per invece chi vuole parlare se si iscrive nella chat è più semplice Susanna ci sei non sembra che tu sia Susanna ci ha abbandonato per rispondere a questo ok Leonardo dice che non c'è non dovrebbe esserci Susanna Marietti questa domanda cade altre domande non ci sono? io sono un'altra Susanna però se posso inserirmi vorrei non posso dare la risposta al posto di Susanna Marietti perché nulla so di sport però se posso fare alcune considerazioni sulle cose che abbiamo sentito che molte sono molto interessanti ma insomma non mi prendo troppo tempo intanto volevo fare una considerazione rispetto a quello che diceva Maria Teresa che condivido molto che potrei riassumere nello slogan contro la debolezza nel senso che è vero che le donne hanno ed esprimono anche una loro grande forza quando si trovano a reggere la situazione del carcere io voglio sottolineare che quando tu varchi quelle soglie la prima cosa che fai è raccogliere tutte le tue forze per resistere e per sopravvivere a quell'esperienza io sono sempre un po' preoccupata come dire che non si colga insomma la drammaticità di quelli che sono i dispositivi che mette in moto il carcere sulle persone quindi questo discorso della mortificazione del senso ma come diceva Goffman vorrei sempre che noi stessimo attenti a non banalizzarla insomma perché l'impatto è molto forte chiunque tu sia anche nelle donne più strutturate come possono essere le donne della mafia che sicuramente portano una loro identità forte però quei dispositivi lì lavorano anche su loro anche su quelle più forti e a maggior ragione su quelle che forse sono meno forti di loro allora insomma noi pensiamo che si varga quel portone e da subito insomma ci si mette in moto per cercare in un modo o nell'altro di rimanere se stesse naturalmente qua noi facciamo un discorso in cui siamo costretti a generalizzare ma da tutti i vostri interventi quello che esce subito con evidenza sono le tante soggettività che ci sono di cui non possiamo fare a meno di tener conto detto questo naturalmente ci sono poi alle spalle condizioni sociali che invece sono spesso molto difficili insomma Susanna Marietti ha ragione nel sottolineare questo e anche noi nel nostro lavoro e nei nostri incontri con le donne insomma questo l'abbiamo visto sono donne che spesso hanno situazioni sociali fragilissime reti sociali molto corte tant'è che una condizione ricorrente è quella della mancanza di un sostegno da parte delle reti esterne io questo vorrei sottolinearlo no a proposito di differenza che le donne sono quelle che spesso reggono le loro reti familiari prima di tutto e quando loro sono dentro queste reti non le regge più nessuno a volte le regge qualche altra donna la mamma la nonna la sorella ma loro si ritrovano spesso da sole allora questo sì è un elemento sul quale secondo me ragionare però quello che volevo dire è che dobbiamo fare proprio mettere un po' fuoco anche proprio un discorso di contesto perché questo viene fuori anche nel lavoro che abbiamo fatto con Grazia e serena nelle loro strategie di tenuta rispetto alla detenzione per esempio contano molto le relazioni tra donne allora è vero che a volte litigano e si menano pure però è anche vero che c'è un lavoro di relazione tra di loro una realtà relazionale tra di loro molto forte molto spesso di sorellanza intensa quando appunto non proprio d'amore insomma questo è vero e però per esempio una domanda importante è come reagisce il contesto carcelario a questo perché spesso reagisce male perché un eccesso di coesione tra le donne diciamoci la verità non è che è visto bene no è visto spesso dalla custodia soprattutto come anche un po' una minaccia no e spesso è disincentivato no o comunque tenuto sotto controllo no io ho presente molto una donna che abbiamo incontrato a Pisa una donna con strumenti forti con un buon atteggiamento proprio da sorella maggiore rispetto alle altre alle più giovani che noi ha detto ma tutto questo mio anche essere più informata delle altre poter aiutare le altre è meglio che io lo tenga nascosto perché se se ne accorgono troppo poi me lo fanno pagare no allora faccio questo esempio perché come dire è importante dirsi questo insomma le strategie di tenuta delle donne sono così importanti per loro spesso non solo non vengono riconosciute ma spesso vengono anche osteggiate e quindi quando noi facciamo tutti i nostri bravi ragionamenti su questo non possiamo fare a meno di dire sosteniamo le donne ma passatemi il termine cerchiamo anche di educare o cambiare il contesto perché altrimenti come dire facciamo fatica e non andiamo da nessuna parte questo tra l'altro è la ragione per cui nei nostri progetti abbiamo sempre tenuto un po' il doppio binario lavorare con le donne ma ragionare anche con gli operatori perché altrimenti insomma la situazione non si sblocca non si modifica non cambia una seconda cosa e poi mi caccio che volevo dire è su questo sul discorso del ruolo femminile che facevate faceva Giuse in particolare ma insomma che facevate un po' tutte c'è una grande ambivalenza su questo perché molte donne arrivano da contesti sociali dove la femminilità è quella più stereotipata non c'è subito e quindi fare un lavoro su questo vuol dire anche insomma mettere le mani su una questione complessa noi abbiamo trovato in questo in questa situazione stereotipata da un lato un appiglio positivo dall'altro lato un limite no per esempio abbiamo trovato quello che con Grazia abbiamo chiamato l'eccesso del materno perché da un lato il materno è come dire è un rivendicare il diritto di poter essere madre e quindi questo è un diritto fondamentale ed è anche un ruolo positivo cioè se io fuori svolgo un ruolo genitoriale che mi viene riconosciuto entro in carcere e non mi viene più riconosciuto è chiaro che io da un lato ne soffro dall'altro lato lotto perché per mantenerlo questo ruolo no e quindi l'aspetto empowering diciamo no e dall'altro lato però questo a volte si carica di un eccesso stereotipato proprio sull'essere madre un eccesso che fuori mediamente la gran parte delle donne ha messo anche in discussione no allora questo è secondo me un dibattito interessante e riguarda molti aspetti della vita delle donne che da un lato sono l'agganciarsi a questi aspetti per tenere e anche per tenere la propria interezza mi verrebbe da dire dall'altro lato però a volte possono anche essere delle trappole e inchiodarle no a dei ruoli che possono essere il materno ma possono essere anche il ruolo in contesti di macro criminalità per dire no che in qualche modo sono importanti per reggere ma sono anche un blocco poi rispetto al fatto della possibilità di pensare a sé in termini diversi ecco noi nei nostri incontri abbiamo visto questa questa ambivalenza anticipo che ne parleremo perché l'incontro di mercoledì prossimo è proprio sull'empowerment e questa ambivalenza trovo che sarà una questione su cui dovremmo insomma tornare a ragionare in maniera particolare grazie grazie Susanna volevo aggiungere una cosa se è possibile in particolare pensando una cosa che aveva detto Maria Teresa sulle agenti di polizia penitenziaria io mi sono occupata quando abbiamo fatto ricerche mi sono occupata dello staff carcerario quindi sia delle agenti che educatore educatrice eccetera gli agenti di polizia penitenziaria ho trovato spunti di riflessione importanti secondo me intanto una grande differenza cioè si va da donne fortemente agganciate diciamo agli stereotipi sul femminile più più consumti si potrebbe dire a donne che invece sulla capacità relazionale e quindi mettere in moto anche una capacità di dialogo e di relazione con le detenute la considerano un elemento importante della loro non della loro formazione perché su questa ragione Maria Teresa cioè loro sentono benissimo che questa capacità non solo non è valorizzata come professionalità no non solo quindi non è incentivata ma come dire forse anche un po' disprezzata in qualche modo rispetto al modello maschile però detto questo però invece loro capiscono che alcune di loro dicevo sono grandi differenze capiscono che è un punto della loro professionalità tant'è vero che una delle cose più interessanti che sono venute fuori per come dire per esempio vincere quello che abbiamo chiamato l'amminorazione la deresponsabilizzazione della vita del carcere per cui tutto è nelle mani degli altri e tu non sei niente e in genere ti dicono il meno possibile in modo da aumentare questa sensazione di diciamo di minorazione ecco invece una di queste diceva io spesso spesso non abbiamo le risposte perché le domande che fanno riguardano altre istituzioni riguardano per esempio i magistrati una risposta quindi non abbiamo le risposte però diceva io ho trovato una cosa estremamente intelligente anche spiegare come mai io non ho quella risposta per cui si deve aspettare perché c'è un'altra istituzione che deve dare questa risposta è un elemento importante importante e questo per esempio è un piccolo mattone di empowerment quello di cercare di dare alle persone che sono diciamo in quella condizione di essere totalmente nelle mani degli altri e dargli un pezzettino di conoscenza perché per capire la situazione in qualche modo per capire ecco l'altra cosa che volevo dire è che sono d'accordo con quello che dicevo ora Susanna cioè abbiamo sempre cercato di come dire in questo senso anche se si vuole l'organizzazione di questo corso di formazione abbiamo sempre cercato di discutere questa questione dell'empowerment in carcere e dell'all'interno di un discorso di cambiamento all'interno di un discorso quindi diciamo di un carcere diverso ben consapevoli che questo comporta come dire la presa d'atto di diverse istituzioni intanto delle diverse culture professionali del carcere e poi delle altre istituzioni adesso avevo riguardato nel report dove una delle proposte che noi facevamo era proprio una proposta rivolta sto leggendo all'istituzione giudiziaria e penitenziaria cioè promuovere occasioni formative trasversali qui dentro che è un altro problema è quello che noi abbiamo scoperto che il volontariato è completamente come dire non integrato dentro diciamo l'attività delle carcere è considerata una cosa molto interessante ma insomma però del tutto a parte e quindi dicevamo promuovere occasioni formative trasversali sul nuovo modello di carcere risocializzante responsabilizzante sui percorsi di empowerment individuale ambientale ecco in questo senso pensavamo che anche che questa piccola esperienza che abbiamo fatto potesse essere importante da un punto di vista metodologico ecco finora non è successo però possiamo in qualche modo continuare anche a insistere su questo insomma mi sembra estremamente importante perché poi termino cioè la cosa che mi ha colpito girando per le carceri in cui sono girata per prendere i contatti eccetera è questa come dire un governo assolutamente settoriale cioè ognuno va diciamo in qualche modo per la sua strada e come mi diceva una volta la responsabile diciamo della polizia penitenziaria dice noi dice parliamo tra di noi quando c'è un'emergenza ma non siamo proprio abituati a parlare fra di noi su quella che è la vita quotidiana nel carcere né come la viviamo noi né come la vivono i detenuti e le detenute il che è una cosa mi è parso molto per cui mi diceva insomma quella che dice lei potrebbe essere una buona idea mi sembra un'idea assolutamente banale diciamo per cui invece era considerata quasi come un'innovazione insomma comunque qualcosa di cambiamento che si potesse mettere in atto io non ho iscritti di fare ci fosse Elena Zizioli che voleva parlare ma non so se volentieri non ho allora se c'è prenda la parola penso che le stiano attivando l'audio ho capito brava meno male che ci tieni io vi chiedo mi chiedo scusa ma sono costretta ad abbandonare bene Giusy ti ringraziamo molto a presto ti ringrazio voi mi scuso ciao ciao a tutti mi sentite sì sì Elena ah perfetto perché io non vi vedo io sono collegata da un telefono perché in questo momento sono a Lecce con Luciana delle donne che penso che voi tutti conosciate perché ha creato questa impresa fantastica di madre in carcere per ha cominciato appunto lavorando sulla detenzione al femminile per rafforzare i processi di empowerment lavorando sull'identità professionale ma non solo quindi per far recuperare autostima le donne io ho avuto la fortuna e l'occasione di conoscerla perché ho fatto questo testo e quindi ho raccontato della sua esperienza e l'ho intervistata allora molto interessante tutto quello che è uscito oggi e secondo me una cosa che a parte che io condivido tutte le riflessioni di Susanna pienamente perché Susanna e Grazia tra virgolette sono state un po' le mie maestre in questo perché hanno aperto veramente un varco di ricerca nuovo dal punto di vista della detenzione al femminile sull'empowering e su tutti questi progetti e in fondo questo qua è la continuazione di WIT che è bellissimo perché rifonda e permette di aprire nuove visioni e quindi di riscoprire le identità recluse da prospettive completamente inedite rispetto a quello che era stato fatto prima quello che mi preme è il fatto come è stato sottolineato dalla nostra comune amica che come ci raccontava da Messina che effettivamente le immagini stereotipati delle donne continuano a essere proposte e a mio avviso nelle donne che vivono un'esperienza di detenzione ancora di più perché sempre di più ci insegna Tamar Pitch che la detenzione al femminile è detenzione di marginalità sociale quindi non arrivano strutturate e su queste donne il dispositivo penitenziario fa sentire il dispositivo carcerario quindi i processi di minorazione del sesso sono molto più forti per cui ancora di più va fatto un lavoro di recupero io dico di recupero anche pedagogico per ristrutturare queste identità che sono identità che sono molto più fragili rispetto a chi ha avuto un'esperienza di detenzione politica che era la detenzione di una volta che adesso c'è molto più raramente c'è il discorso appunto si diceva sulla criminalità organizzata quindi secondo me molto lavoro va fatto in questo senso e si dovrebbe a mio avviso e viene fuori anche sul discorso delle professionalità sistema di cui si parlava prima della polizia penitenziaria si dovrebbe a mio avviso cercare di fare rete tra i progetti virtuosi ho potuto conoscere le amiche di Granello di Senape a Venezia cioè ho potuto vedere che i progetti in Italia ci sono da questo punto di vista nelle nostre istituti penitenziari secondo me forse uno sforzo sarebbe quello di metterli in rete e di lavorare in rete una rete fra donne mi permetto di dire perché in questo noi siamo brave a creare rete e dobbiamo anche valorizzare le forme di sorellanza come ci diceva prima Susanna ma cercare di far sì di creare anche un modello di pratiche virtuose che possano stare in rete e che a cui attingere per cambiare il modello proprio detentivo in sé adesso scusatemi sono in macchina quindi spero di essere riuscita a far passare il messaggio però è un po' questo forse che manda la condivisione e quindi la condivisione delle buone pratiche che a mio avviso sarebbe utilissima perché ci sono tante realtà che lavorano anche bene che magari non sono conosciute pensiamo a tutti i progetti qui adesso col progetto WOT in questo momento stiamo cercando di il progetto WOT proprio cercando anche questo attraverso il dispositivo narrativo anche di creare reti fra le varie realtà e tutti quelli che sono intervenuti e interverranno in questi webinar cercano proprio di restituire le loro esperienze e di cercare di metterle a modello per poi diffonderle perché è un po' questo il nostro compito poi portare questa metodologia di lavoro in tutti gli istituti ecco io a mio avviso secondo me dobbiamo cercare sempre di più di sistematizzare queste buone pratiche e di metterle in rete secondo me è un lavoro fondamentale per ricostruire nuovi modelli che possano poi essere anche assunti dalle amministrazioni da chi poi decide e deve riorganizzare la vita la vita dentro e non solo ma anche pensare a forme di decarcerizzazione che per le donne sappiamo sono quelle che pagano di più con tutto il discorso poi che si farà sull'empowerment sul materno che mi trova perfettamente d'accordo ecco questo discorso che recuperava anche Susanna io credo che dal punto di vista io sono molto interessata perché occupandomi di educazione tutte queste pratiche virtuose non sono altro che modelli educativi a cui attingere e tra l'altro un grosso lavoro deve essere fatto anche sui giovani sulle nuove generazioni di donne che rischiano altrimenti di essere vittime di modelli stereotipati che si ripropongono nella nostra contemporaneità con una visione della donna che risente ancora di modelli di subalternità di inferiorità anche se sono diversi da quelli del passato ma comunque i rischi sono più subdoli forse i rischi ci sono ancora e quindi da questo punto di vista secondo me molto lavoro si potrebbe fare io sono per la condivisione di pratiche e quindi per lavorare ad un discorso di modellizzazione tutte insieme che si cerchi di capire quali sono i punti di criticità e quelli invece dove sono i punti di forza su cui fare leva non so se siete d'accordo su questa proposta assolutamente sembra una bella idea il passo successivo o forse contemporaneo diciamo della messa in rete è vedere di come dire entrare anche in quella che è se c'è che non lo so nella formazione ufficiale Maria Teresa io volevo solo no a parte che sono assolutamente d'accordo figurati che sarebbe una sfida importante questa sicuramente aiuterebbe tutte e va bene insomma va bene ok perfetto ci sto come dire io credo che ci sia una cosa che noi non abbiamo mai nominato questo questo pomeriggio che non che non è del carcere femminile ma che nella nostra vita e che è stata in questo anno e mezzo della nostra vita che è la pandemia allora era un po' stavo dimenticarci che è un anno e mezzo che praticamente le attività all'interno degli istituti sono state sostanzialmente bloccate quindi diciamo negli istituti l'esterno le persone dall'esterno sono entrate molto poco le relazioni quindi si sono interrotte per un anno e mezzo sostanzialmente non dico magari con la non parlo della direttrice oppure del piccolo singolo progetto come non so l'apertura della biblioteca la casa circondariale per esempio che è stata mantenuta a tratti però per esempio il femminile il femminile a Venezia è come dire ha avuto un periodo di blackout nella relazione con l'esterno ecco secondo me non lo so cioè io quello che mi domando è come cioè mi piacerebbe mi 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 so l'etica l'idea comunque di aprire su questo periodo anche una riflessione con le donne cioè cosa è stata per loro cioè vivere questa doppia reclusione con una doppia ansia nel senso che tu stai in un posto dove arrivano delle persone che magari ti possono portare indipendentemente dal tuo dalla tua capacità come dire di 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 poterti cioè difendere capito ti possono portare qualcosa cioè voglio dire secondo me è una cosa a cui personalmente insomma a me personalmente interesserebbe comunque fare qualche incontro insomma per sapere come è stato vissuto questo momento perché noi non possiamo fare a meno di non tenerne conto cioè è stata nelle nostre vite cioè è stata anche nelle nelle loro vite ecco scusate tutto tutto qua quello che volevo dire mi sembra giustissimo oltretutto come dire è anche una misura è un come dire un'unità di misura se è vero che appunto le relazioni quello insomma che ci siamo detti finora sono importanti la rottura perché lì è stato proprio un taglio diciamo del quasi totale delle relazioni insomma è importante sondarlo insomma non solo per la paura poi dopo che certi tipi di di situazioni vengano considerate normali anche dopo la pandemia il problema che abbiamo tutti cioè in qualche modo abbiamo tutti in molte nostre attività ma anche proprio per vedere come dire insomma è un metro di misura della della profondità anche diciamo della della sofferenza in situazioni di taglio di taglio proprio senza sapere perché per molto tempo non non si è saputo e ne ha si sa completamente come riprende la normalità oltretutto c'è anche appunto questo elemento del non sapere che è secondo me particolarmente pesante insomma da sondare quindi io sono d'accordo mi sembra un'idea molto importante non mi pare che ci sia nessun altro beh invece sì allora brava Serena forza invece sì perché ci tengo visto che abbiamo due riflessioni in realtà che mi fa piacere condividere una è di Eugenia Chiorillo che ci chiede l'obiettivo è lavorare per la donna che vorrei o per la donna che voglio essere che è un buono spunto una buona domanda e poi invece abbiamo Gennaro perdone che non so se ci ha già salutato ma doveva chiudere e si domandava retoricamente ma forse neanche troppo quanto il sistema effettivamente si sforzi più per reprimere invece che per rieducare anche se termine di rieducare forse insomma avremo modo anche di riflettere su questo e poi abbiamo Alicia Roselli che vorrebbe intervenire che se è ancora in linea chiedo a Leo di attivare il microfono grazie ciao a tutte scusate che ho avuto degli inconvenienti non riuscivo a entrare a Milano c'era il temporale si erano azzerate tutte le comunicazioni comunque ce l'ho fatta niente intanto saluto delle facce conosciute da tanti anni così anch'io voglio partire dalla riflessione ultima che ha fatto Maria Teresa cosa troviamo quando rientriamo dentro perché io vado a San Vittore è un anno e mezzo che non abbiamo notizie qualcosina dal maschile ma dal femminile c'è proprio un black out totale dal maschile qualcosa abbiamo saputo perché qualcuno è uscito e poi ci ha raccontato dal femminile non sappiamo nulla quindi proprio tutti i legami spezzati ogni tanto mi faccio delle riflessioni un po' pessimistiche e mi viene da dire che dopo un anno e mezzo che tutti gli operatori si sono abituati a non avere nessuno tra i piedi quasi quasi gli fa anche comodo che entriamo col contagocce e poi magari un po' meno insomma chi conosce un po' la realtà di San Vittore sa che siamo tantissimi volontari quindi c'è un via vai di persone progetti tante cose spessissimo slegati che comunque creano un lavoro in più agli operatori no? permessi gente che va che viene che chiede e robe del genere e quindi questo è una cosa importante a me piacerebbe infatti mi sono iscritta a questo seminario molto interessante proprio perché mi piacerebbe tentare di formare un gruppo a San Vittore e vedere come va dopo la formazione e se sarò in grado di farlo non so chi troverò a San Vittore ovviamente ci sono detenute che ben conoscete quasi tutte straniere con una povertà sociale bassissima però si può tentare l'altra cosa che volevo dire un po' sulla mia esperienza personale io vado a San Vittore dal 93 e vado al femminile in coppia con una mia compagna Angela che è iscritta anche a lei al seminario ma oggi è partita per le ferie e non ho potuto collegarsi siamo all'interno del progetto Ecotonos che se qualcuno lo conosce già dagli anni partito appunto da un gruppo di detenuti politici in cui la parola chiave per relazionarsi con i detenuti era proprio empowerment quindi relazionarci noi esterni con loro facendo leva sull'empowerment e facendo una relazione tra pari quindi collego donne diciamo che l'abbiamo già tentato questo approccio naturalmente in maniera molto informale però diciamo che ha funzionato sulla differenza femminile ovviamente io sono una vecchia femminista anni 70 ho frequentato e frequento tuttora libreria delle donne quindi mi trovate assolutamente d'accordo su far leva su questo punto ci abbiamo provato Angela e io anche perché quando andiamo al femminile siamo forti e forti di una relazione tra noi due che si vede chiaramente non siamo solo una coppia che va lì abbiamo una relazione politica che ci trasciniamo dal sindacato io come sindacalista e lei come delegata ancora nei metalmeccanici però abbiamo portato comunque sempre provato a partire da quello che è l'assunto della differenza femminile è il partire da sé comincia da te raccontami cosa vuoi e poi dove puoi andare al di là poi è chiaro che quando parti da loro partono dai loro guai giudiziari c'è questo snocciolamento di sfighe infinite però quando riesci a distrarle da queste cose dalle loro lacrime dai loro problemi forse si riesce un po' a fare leva su questa cosa per proprio cercare di migliorare la loro condizione sapendo che è difficile per tutte le cose che avete detto l'altra cosa sono gli agenti anche lì per noi all'inizio è sempre stato un rapporto un po' difficile molto di sudditanza anche nostro perché dovevi dovevi passare da loro per entrare per farti aprire questa questa cella che era che era luogo di riunione per chiamare le detenute era sempre entri a un'ora e vedi le detenute un'ora dopo e poi dopo mezz'ora ti cacciano fuori però c'è questa nuova leva di nuove agenti che hanno una scolarità più alta sono giovani si sono fatte immagino un film diverso sulla modalità di svolgere la loro professionalità e si trovano di fatto a aprire chiudere celle cacciare dentro persone e qualche volta quando abbiamo tentato di coinvolgerle anche nelle cose più banali facevamo un film per il 25 aprile facevamo un film per il 25 novembre così chiedevamo se volevano venire anche loro poi portavamo dei gadget alle detenute lì abbiamo detto e li ridavamo anche a loro e lì allora c'è il contatto che timidamente ti fanno capire che loro sperano nel in un in un in un modo diverso di svolgere il loro mestiere ma anche loro sono schiacciate da delle abitudini del carcere la solita cosa quando tu vai a chiedere una cosa ti dicono ma si è sempre fatto così quante volte ve lo siete sentite dire e uno dice ma chi l'ha detto dove è scritto perché non possiamo cambiare finché non trovi qualcuno un po' più illuminato che ci prova insomma quindi io credo anche il rapporto con le agenti soprattutto queste nuove e scolarizzate tra l'altro anche lontane da casa quelle che sono a Milano sono lontane da casa sono in caserma sono si vede che anche sono frustrate in termini di socialità esterna credo che sia un punto fondamentale ecco vi ringrazio bene grazie molto bene diciamo le altre due c'erano le altre due domande che aveva riportato Serena si può rispondere Serena mi immagino no non lo so non la vedo più siamo un po' un po' disorientate ecco Serena non ti vediamo se ti fai vedere meglio no io abbocco solo alla prima domanda che non avevo capito tanto bene ma che comunque mi sembra avesse a che fare con il desiderio di cambiamento no la donna che vorrei essere la donna che desidererei essere ecco rispetto al nostro lavoro ne parleremo nei nostri incontri però quello che modestamente può fare un percorso di gruppo come quello che abbiamo in mente noi io credo che la cosa che ha funzionato di più nella nostra esperienza con le donne di Firenze e di Pisa è aver messo in piedi insomma un dispositivo che le aiutava a guardarsi in un altro modo no che è già una cosa enorme se ci pensate ma anche rispetto all'esperienza che ognuna di noi ha con sé no e quindi questa cosa che all'inizio le ha disorientate ma positivamente è stato quello di dire loro non vogliamo in nessun modo partire dagli errori dalle colpe dai reati o dalle sofferenze vogliamo partire da quando voi avete fatto una cosa di successo che è andata bene da quando voi vi siete piaciute no da quando ha funzionato allora al di là di quanto una poi vuole cambiare se stessa però già assumere un posizionamento no da cui si guarda a sé e alla propria esperienza di vita in un altro modo e soprattutto lo si fa scambiando questa immagine con altre donne beh questo è già molto forte credo che sia stato molto forte nell'esperienza di ognuna di noi quando c'è dato dato di vivere una cosa di questo genere ed è stato forte anche con questi gruppi di donne quindi su questo noi scommettiamo fondamentalmente tenendo conto che si è in un contesto che continuamente cerca di rimandarti invece il tuo di meno e non il tuo di più la tua potenzialità quindi il gioco positivo è un po' questo e sarà e sarà un po' questo e quindi il gioco positivo in sostanza non è tanto su quello che voglio essere quello che vorrei diventare ma quello che sono capire fino a un fondo quello che sono e piacermi così come sono per la verità insomma questo sarebbe mi sembra l'obiettivo più importante bene Serena volevi dire qualcosa eccomi sì scusatemi non riuscivo a connettermi avete già risposto solo una parola in più non so quanto la domanda di Eugenia fosse in parte anche provocatoria cioè ha già risposto ampiamente Susanna lei si chiede quanto cioè metteva in contraposizione la donna quanto vogliamo noi lavorare sulla donna che vorrei piuttosto che la donna che l'ha detenuta poi sceglie di voler essere no quindi decostruendo poi quello che è un modello a cui ci si deve riferire e lavorando poi in realtà su quelle che sono le competenze e le capacità che la donna ha che mette in campo rispetto a un'immagine di sé che un po' contrasta anche la narrativa predominante noi ritorniamo la provocazione dicendo che ovviamente la seconda la via che abbiamo già in parte intrapreso con la ricerca precedente che sicuramente in realtà poi costituisce il motivo anche di questo incontro e dei prossimi io ringrazio tutte le persone che sono intervenute e chi ha partecipato ricordo che già da oggi è possibile iscriversi al laboratorio residenziale che si terrà a settembre e il modulo lo trovate sul sito di società della ragione www.società della ragione slash w-o-m quindi l'acronimo del progetto però nei prossimi giorni comunque tutte le persone che hanno partecipato verrà mandato una mail con le informazioni e anche rimanderemo il link alla cartella drive dove per ogni giornata quindi quella odierna e le due successive abbiamo condiviso e preparato dei materiali io intanto quindi rinnovo i miei ringraziamenti e do un grande abbraccio ricordiamo il prossimo la prossima sessione del 30 giugno sull'empowerment in carcere no? esatto esatto bene grazie a tutte grazie ciao grazie molto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti